Solo Goldberg nasce più di 20 anni fa e ovviamente si sviluppa attraverso le 30 variazioni, le due aree, quindi sono 32 brani, ognuno dei quali è associato ad un'opera d'arte del Rinascimento. Quindi per me riferirmi a qualcosa fuori da me, a delle opere d'arte che comunque narrano di sospensioni, narrano di sostegni, di compassioni, di pietà, di deposizioni. Comunque tutto un atlante che si rivolge al dolore degli altri, per me significa tutte le volte pormi di fronte a quella che è appunto anche le urgenze dell'umanità. Questo povero corpo, il corpo di tutti, che tutte le volte si deve ovviamente applicare per andare incontro agli altri, per includerli, per abbracciarli. Portare in scena il solo Goldberg è sempre una prova estremamente complessa. È come mettermi alla prova, ovviamente sempre, anche perché è un lavoro estremamente faticoso da questo punto di vista. 20 anni fa, quando l'ho creato, ovviamente abitavo il mio corpo in un'altra maniera. Adesso evidentemente ho dovuto escogitare, come fa l'essere umano, proprio per vivere, per continuare a vivere, ho dovuto escogitare altre forme ovviamente di narrazione. Quindi questa elaborazione delle tecniche, i virtuosismi, tutte queste strategie proprio per dare il meglio di se stessi, evidentemente è un po' anche uno dei temi del solo Goldberg. L'uomo ha la possibilità, ha la capacità, in ogni istante, in ogni momento, fino all'ultimo giorno, di cambiare.